Consigliere Bedori, sulle periferie, centro-destra e centro-sinistra si confrontano spesso anche su posizioni ideologiche diverse, con approcci differenti e talvolta opposti. Il Movimento 5 Stelle rispetto a Milano che cosa pensa? Si fanno sempre tante chiacchiere, ma bisogna vedere sempre le soluzioni quali sono. Sicuramente una di queste sono i presidi, i presidi territoriali. Se continuiamo a togliere, per esempio, anche dalle case, dall'ERP, dalle case di edilizia popolare, i custodi, togliamo dei presidi importanti. Sulla sicurezza, voi avete avuto delle posizioni abbastanza forti, nette anche in campagna elettorale. Cosa pensate rispetto all'operato di questa amministrazione? Mi aspettate di più o di meno? Noi ci aspettiamo più che dei proclami con assunzioni improbabili, quando c'è il fermo dell'assunzione per la pubblica amministrazione, ci aspettiamo dei fatti concreti. E quindi la sicurezza nelle periferie è sicuramente un tema importante.